Con gli sconti fino al 50% al centro veneto del mobile, la tua cucina, realizzata su misura nei minimi dettagli, costa solo la metà e in omaggio avrai una fantastica tv da 50 pollici. Dopo poco più di un mese dalla ripresa, una nuova frenata si abbatte sul mondo dello sport. A pochi giorni dal DPCM del 13 ottobre che sanciva il divieto della pratica degli sport di contatto a livello amatoriale su tutto il territorio nazionale, una nuova ordinanza, questa volta a carattere regionale, entrata a gamba tesa sull'universo sportivo. Regione Lombardia, dopo essersi confrontata con i sindaci dei capoluoghi e aver avuto l'ok del Comitato Tecnico Scientifico, nella tarda serata di questo venerdì è messo un nuovo provvedimento. Sul banco degli imputati tra le varie misure di contenimento del coronavirus, anche il mondo degli sport di contatto a livello dilettantistico. La nuova ordinanza, firmata dal presidente Attilio Fontana, ha infatti messo nero su bianco il fermo di tutte le attività. Fino al prossimo 6 novembre non solo non si potranno disputare competizioni a valenza regionale e provinciale, ma saranno sospese anche tutte le attività di allenamento delle società sportive dilettantistiche. In Lombardia, calcisticamente parlando, stop dunque ai campionati sotto legida del CRL e del Comitato Provinciale dall'Eccellenza alla terza categoria, avanti solamente Serie D, Juniors e Serie B e C femminile, poiché a carattere nazionale. Il basket, sotto il controllo della FIP, ha comunicato la sospensione dell'attività agonistica di tutte le categorie dilettantistiche, regionali, senior e giovanili, compreso il mini-basket. Debuto stagionale dunque rimandato per il basket Iseo. Capitolo pallavollo, la FIPA Lombardia ha confermato che sono consentite tutte le attività delle squadre iscritte ai campionati nazionali di Serie A e Serie B rispetto delle norme vigenti, mentre sono sospesi allenamenti e partite di Serie C e D e delle squadre iscritte ai campionati territoriali e giovanili. Anche la FIR, la Federazione Italiana Rugby, ha fermato tutte le competizioni e attività organizzate dal Comitato Regionale Lombardo, consentendo un regolare svolgimento delle attività solo per le squadre che disputano competizioni nazionali. Ancora da chiarire, dopo varie esposte al conio e enti promozionali come l'OXEN, la posizione degli sport da combattimento come karate, judo, arti marziali e kickboxing che in virtù dell'apertura consentita a sale fitness e palestre vorrebbero proseguire perlomeno gli allenamenti a distanza e con le dovute precauzioni. Novità in merito dovrebbero giungere nei prossimi giorni. Il CSI dal canto suo ha deciso di rinviare dopo il 6 novembre la prima giornata dei campionati prevista questo fine settimana. Quel che è certo in attesa di precisazioni e nuove misure è che il mondo dello sport si prepara ora ad affrontare una nuova battaglia, una corsa verso la sopravvivenza che forse non tutti riusciranno a portare a termine.